Siamo a Giovinazzo, continua il nostro viaggio verso i comuni del nostro collegio dove come vice sindaco della città metropolitana di Bari ho avuto il privilegio di lavorare con i sindaci dei comuni e portare finanziamenti per riqualificare piazze, realizzare spazi verdi, realizzare nuove attrezzature sportive. Nel caso di Giovinazzo siamo a piazza Don Tonino Bello dove abbiamo riqualificato la piazza con i finanziamenti intercettati dal governo e dalla città metropolitana di Bari dove abbiamo riqualificato la piazza con un'area giochi per bambini, un'area attrezzata per gli spazi sportivi. Ma a Giovinazzo ci sono quasi 6 milioni e mezzo di euro finanziati per altre opere come il centro sociale per gli anziani, la ristrutturazione del palazzetto dello sport e la casa della cultura, già attiva, già operativa e già centro di aggregazione per tanti ragazzi. Sono sempre stato qui e sempre starò con voi a lavorare insieme se lo vorrete ancora.